la debbi e la linea giovane della della debora la debbi oltre oltre a essere questo costa anche leggermente meno della della debbora oggi parliamo di questi i color experience questi sono gli ultimi color experience usciti questo lilla e lo 06 io ne ho presi un po di questi questo è da utilizzare solo asciutto questo è viola il lilla eccolo qua che lo 0 3 tanti colori non li ho presi perché non mi piaceva l'arancione il numero 22 il numero lo vedete qua anzi qua in piccolo c'è scritto vet and rai quello verde più chiaro il numero lo 02 un po' è un verde acqua bellino certo se poi lo usate bagnato diventa più scuro io adesso ve li sto facendo vedere solo asciutti e questo l'ultimo che ho preso verde smeraldo lo 0 debbi color experience vette questi sono gli ultimi usciti vette dry questo numero 14 colore un fucsia molto carino